Cosa posso ripetere? Che cosa posso cancellare? Mille cose Questo sono le immagini di Merced Duchamp insieme con me nel giardino di Beaumart sul momento in cui Duchamp è stata in Italia. La nostra testa è tonda per permettere al pensiero di cambiare direzione. Quindi io sono stato connesso con questa situazione. Quando io ho incontrato Toni Negri, prima che Toni Negri fosse conosciuto da tutti, lo incontrai in una riunione di potere operaio. Io ero amico di Balestrini, Balestrini era già dentro questo giro e lui ho incontrato Toni Negri per la strada di Roma e mi ha detto Ah tu sei pittore? Allora perché non fai un bel quadro sul salario? Sì Il fatto di agire con tutti questi linguaggi vuol dire che un linguaggio nell'arte definitivo non c'è e ancora oggi Baruchello prova a mettere insieme media differenti. È un nuovo modo anche di pensare all'assemblaggio. Dal cortocircuito di questi linguaggi può uscire qualche cosa che in questo caso è il pensiero, perché questo è un laboratorio assolutamente del pensiero. Grazie.